Ragazzi, è pure in Atalanta, è in Champions League che a questo punto vuol dire che batterà il barriere nel mercoledì sera perché andrà a sfidare in finale il barriere nel mercoledì a Dublino. Quindi mi raccomando perché stasera l'Atalanta ha meritato un dimensio e così è stato, per fortuna. La parola da 40.000 euro è lezione. Lezione. Ragazzi, mi sono visto una rendita, scusate. Quindi mi raccomando perché pure l'Atalanta fa festa, ok? Perché è andato un anno che non ha vincere una partita e quindi ha fatto grazie contro le lecce. Mi ha andato a mare. Quindi questo è tutto. Mi raccomando perché noi adesso contiamo a vincere. Va bene? Quella di lunedì sera andalara. Quindi mi raccomando e facciamo il nostro, ok? Come ho detto, ieri suomiglio, ok? Perché non l'ho fatto. Ma l'ho cominciato a fare stamattina. Uno e poi l'altro l'ho fatto. Oggi pomeriggio perché non abbiamo voglia. Quindi l'Atalanta ha vinto e va bene. Quindi pure l'Atalanta supera i lecce e va in Champions, ok? Quindi bene così. E ora ci sono le sei qualificate per la prossima Champions. Quindi mi raccomando perché le ultime due mani in Europa League tipo la Lazio e la Fiorentina e in Monza risale se vincerà questa. E poi Torino supera la Lazio che vuole dire la sua, ok? Quindi mi raccomando. Stasera c'è Torino Minimale e ci gustiamo una serata di caccio. Quindi solo questo e sempre fino alla fine.